Quando la Sacra Sindone fu nascosta a Montevergine La Sacra Sindone è la straordinaria testimonianza di un mistero, l'immagine di un uomo impressa su di un lino funerario che i cristiani tramutano in un segno tangibile della rappresentazione visibile del Dio invisibile. Durante i disastrosi anni della Seconda Guerra Mondiale, il sudario fu traslato in assoluta segretezza a Montevergine e celato all'interno di un altare di legno. Il timore che potesse andare perduto per sempre era tale che i Savoia, proprietari della reliquia, convennero di occultarla nel settembre del 1939 nel santuario tanto caro al principe Umberto. E qui vi rimase al sicuro per sette lunghissimi anni, fino a quando, nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 1946, il cardinale Maurilio Fossati, arcivescovo di Torino, diede l'assenso per una breve ma solenne ostensione del sacro deposito nella sala del capitolo di questo santuario. Quei monaci l'avevano protetta con il loro silenzio e custodita a rischio della propria vita. Momenti irripetibili di forte comunione emotiva e solenne intensità precedettero il commiato e la restituzione alla sua sede naturale, la Cappella del Guarini nella Cattedrale di Torino e all'umanità intera.